ma e allora? e quindi a quel punto il dottore mentre stava guardando l'analisi ma guardate un bacio che non ha la faccia a me, ha detto ma tu vuoi campare ancora o vuoi andarti nella domanda? trigliceride, colesterolo, glicemia, valori altissimi, valori altissimi e che tu bevi? tu non devi bevi, bevi troppo? eh Gioan e lo so è più forte di me, mi piace, mi piace bere, devi ridurre, l'alcol fa male, non ce la faccio, l'alcol fa male, te lo dico sempre io, devi smettere, vedi che mio nonno beveva una bottiglia di grappa al giorno e ha cambiato fino a 98 anni, mio nonno una bottiglia di grappa al giorno, oh 98 anni e non ha avuto nessun problema mio nonno, mai nessun problema, non è possibile, un problema, un problema l'aveva c'è stato, hai visto? quando mio nonno l'hanno cremato, praticamente non si spegneva più risentono dalle il nel tutto un bel tecnico soldi penso che io no, bo yani allora sono risentolo sortite ma un Ciao.